A mille ce n'è, nel mio cuore di fiabe d'allorare, venite con me e inizia la bella e la bestia. Eh già! Allora siamo qui con l'ingegnere Fabio Faraci, ospite della puntata della bella e la bestia di oggi, leggo testuale dal suo biglietto da visita che mi ha appena dato, attore, presentatore, modello, cantante, per cui la gente, il pubblico di RFA vuole sapere cosa ci fai qui perché sei venuto oggi alla bella e la bestia. Oggi sono venuto qui per dire che riparte, dopo un fermo che c'è stato di intervista alla musica, il mio programma in tv su Italia 7 Gold e sono qui oggi fratto in presenza delle mie prime due cravattine della prima puntata che sono... Nunzia, Magda E sono loro le prime due cravattine che apriranno la serie di vari episodi che andranno poi in onda su Italia 7 Gold, previsione per adesso è il primo sabato pomeriggio di giugno. Vuoi spiegarci anche cosa ti ha spinto a venire qui ospite alla bella e la bestia? Non una, ma due e neanche tre volte e poi si sa già che tornerai anche la quarta? No, ma già questa era la quarta di quello che ne so io. La quarta, poi me ne ero persa una. Sì, no, solo la gra... Cosa ti spinge a venire sempre qua ospite? Beh, la profonda amicizia che c'è con Saki e con Giulia, quindi vengo qui. Preferisco venire da Legge anziché da tante altre parti e poi ce l'ho a due passi da casa anche, molto comodo. Ok, le tue compagne di oggi ce le hai già presentate, quindi oggi sei in bella compagnia solo perché sapevi che la bestia è in crisi di astinenza o ci sono altri motivi? No, non lo sapevo. Soprattutto raccontaci come hai fatto a selezionarle per il tuo programma. Diciamo che, come ha detto lei, l'ho incontrata ad un casting, avevo visto i suoi occhioni, quindi ho detto guarda, gli vado a rompere le scatole. Lei ti scusa, non ho capito. Ma è l'annunzia. Gli vado a rompere le scatole e vediamo se non gli va di fare poi la valletta. E da lì poi è nata anche l'idea, vedendo le foto sue insieme a sua sorella, delle finte gemelle, perché all'inizio lo prese proprio per le sorelle gemelle. Com'è andata la puntata oggi? Ma per me, secondo me, è sempre la solita, divertente al massimo come al solito. Io ti parlo di veterano ormai di qua dentro, ora magari vediamo loro cosa ne pensano che per loro è una prima volta. Passa il microfono a tutte e due. Sì, è la prima volta, però mi sono trovata molto bene, è stata molto divertente. Quindi tornerai anche tu. Sì, sì. Prima volta in radio, un po' emozionata, ma tutto bene. Ciao a tutti amici di RFA, abbiamo appena finito, è stata durissima, vero Giulia? Abbiamo registrato un puntatone. La temperatura è salita molto, soprattutto per me oggi, perché avevamo come ospite Fabio Faraci. E non era solo. E non era proprio solo, perché qui con noi, qua di fianco a noi, fino a due secondi fa ragazzi, era una cosa, una bellezza un po' disarmante. Uno svolazzamento ormonale incredibile. Questa settimana dovete rimanere con noi, sintonizzatevi e appicciate il WWW il lunedì, il mercoledì, il venerdì alle 13, alle 18 ed alle 23, perché alla Bella e la Bestia ci sono Fabio Faraci. E le sue cravattine, quindi per scoprire di più, sintonizzatevi su WWW Frequenza Pennino. Teo e la Sacchi, la Bella e la Bestia. Vi aspettano. State con noi. Ciao. Ciao.